Mascherine di pasta sfoglia alla Nutella. Per prima cosa prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare e cominciate a creare le mascherine. Se non avete questo stampo create una sagoma con il cartone. Fate dei buchi al centro per creare ovviamente gli occhietti. Riempite una sac a poche con la Nutella e farcite tutte le mascherine. Ovviamente potete utilizzare anche una confettura marmellato altrimenti crema spalmabile al pistacchio. Applicate sopra un'altra mascherina e fate una lieve pressione. Preriscaldate la frigitrice ad aria. Se non avete questo tasto potete fare 200 gradi per tre minuti. Adagiate tutte le mascherine nel cestello, spennellate la superficie con del latte e spargete con gli zuccherini colorati per dare un tocco più carnevalesco diciamo. Altrimenti li lasciate così al naturale e poi li glassate con del cioccolato fuso sopra. Adesso li facciamo cuocere a 180 gradi per 7 minuti esatti. Ovviamente ogni frigitrice ad aria cambia la cottura quindi state attenti voi. Dopo averli cotti questo è il risultato finale. Fantastici! In 7 minuti sono pronti. Una ricetta super veloce. Con i ritagli di pasta mi sono creata delle girandole alla marmellata. Buonissimi anche questi. Spero che questa videoricetta vi sia piaciuta.